Ciao a tutti sono MrNikoDeBest92 insieme a Matthew, questo è il terzo episodio del Let's Play su SkyBlock, siamo sempre su questa fantastica mappa e ci siamo lasciati che praticamente stavamo raccogliendo un po' di neve, raccogliamone altra, ora bom io uso solo più caps perché veramente ho paura, una paura micidiale di cadere, infatti proprio una roba tutta quest'anno mi fa sentire in tema di vacanze natalizie, veramente aspetta che chiudo e invece domani si ricomincia la scuola, veramente no domani si ritorna, magari quando lo carico sto video siamo già persi tornati a scuola, speriamo, io spero che un meteorite faccia esplodere la scuola, veramente, una roba, una bomba toni, un attacco terroristico stamattina, ho finito di, ho finito di evitare, perfetto, allora cosa dire, allora incominciamo, facciamo un po' di coble ancora, dobbiamo poi ovviamente andare al nether, giusto, di base, allora noi non facciamo tutti gli obiettivi che prevedono la mappa perché sennò sarebbe una roba troppo noiosa, però uno che mi interessa molto è fare acqua infinita, quindi dobbiamo andare al nether, all'inferno perché c'è un altro cubetto di ghiaccio e quindi, ok, allora incominciamo a prendere questo melone, almeno possiamo riprendere la salute, c'è la fame, c'è la salute, 7, buono, se ce ne andrà più, allora osa per rientrare notte, quindi posiamo qui dentro questo, e magari iniziamo a fare il portale, si beh, allarghiamo un po' qua, ma tutto con caps perché è tremendamente pericolosa sta mappa, ma vuoi che è tanto 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 pericolosa, allora 4, uno ancora qua, un altro di qui, un altro di qui, eh ci ma ci sarà un po' di coble, eh dici, ma che c'è dove l'ha fatta dire, è un po' interessante come mappa no, una bella mappa, bella però, bella, 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 carina, scherzo, è molto pericolosa, si parecchio, diciamo che sappiamo qualcosa, si, boh, prendo quei, quelli che sono finiti qua, uff, la lava, sempre, dobbiamo prendere l'ossidiana e non dobbiamo piazzarla benissimo perché non dobbiamo sbagliare per nulla, se no non può sempre toglierla, uno, due, tre, cubetto di coble, buttiamoci sopra qua, ti immagino non sarebbe mitico buttarseli sopra e poi finire dentro la lava, sarebbe un monfele apocalittico, proprio da figurare, perfetto, ora prendiamo secchiello, secchiello cio cio cio, raccogliamo la lava perché noi il portale lo accendiamo con un modo molto strano usando la lava, che è anche l'unico modo con cui lo si può fare, siccome non abbiamo acciarini, ovviamente trovate un sito strano gestito dalle persone ancora più strane, scherzo, non sono anche lì che sito sia, però, è un sito di minecraft d'Italia, un modo da capi assurdi a questo, proprio, devi avere una mente superiore per elaborare un metodo così, si, si, io non sapevo come si faceva e ho detto, boh, come facciamo ad andare a nether senza un acciarino, poi ho guardato sul forum e alcuni hanno commentato che potrebbero fare così, ed ora mi faccio vedere se per caso non lo sapete, è un modo molto strano, quindi non fatevi strani idee, dovete mettere sotto la lava qua un cubetto di legno, questo cubetto di legno quando brucia fa accendere il portale, però ci vuole tanto tempo, ve lo dico, è una cosa anche abbastanza pallosa, però bisogna farla, adesso senza morire dobbiamo fare una cosa molto pericolosa, togliere qua, perché penso che se no, ah, non l'abbiamo ancora piantato, ecco, ora lo piantiamo, facciamolo crescere, ecco, se no magari ancora vuole crescere di qua e non riesce, questo cubetto possiamo fare così, con caps, lo rompiamo, neanche se finisce sotto qui sempre, ora sempre con caps, sì perché caps, io amo caps, mettiamo un cubetto, adesso bisogna vedere, perché alcuni lo mettono di qua e non so come mai si brucia di qua oppure di là, oppure da tutte e due le parti e poi si brucia, io lo metto di lì, se poi non si brucia lo spostiamo di qui, ci aspettiamo, sì aspettiamo tanto, parecchio, e mentre raccogliamo un po' di alberelli, piantiamone un altro, piantiamo di solito, il caso di li pianto come parla, non sono imposto, non lo piavo, non lo piavo, non lo piavo, va bene, se voi lo piavo conspiracy, ah, non c'è nessuno, però il capo è seguitato, ok era perché andiamo nell'altre ebo, si, a questo si spavano un po' di qua e tornare indietro, un bel affare, proprio, basta come uno sport in inverno, si, più piedi, mi fa male, mi fa male, 1 però non può fare deciso di poter servire molto fai a parlare non c'è un po' di cubetti quelli in più allora si fa il piccolo però la mettono peccati e neanche via 4 per massimo togliamo 1 di 2 si è una cosa molto lunga lo dico quindi non annoiato ma tanto abbiamo anche altro da fare come? si può cercare una fonte di luce non possiamo fare delle torce ah sai cosa dobbiamo fare in pratica quando si spawnano i spider dobbiamo killarli con questa spada di pietra perchè le stringhe ci servono per fare la lana che qua se le pecore solo se lo fai tanto grande si spawnano e con la lana facciamo il letto almeno di notte facciamo dormire c'è un capo infatti lo dico un capo assurdo quante lana abbiamo? zero zero per forza non abbiamo stringhe ah non avevamo ucciso uno spider? no allora che mi ricordo male piccolo fail adesso almeno c'è un po' di luce tanto bisogna vedere qual è che si brucia uno dei due poi alla fine si bruciera ma lo spero perchè qui mi intervassi in quella cosa ma dopo quando andiamo al nether vedi che cavolata che è il nether praticamente un cubo di glowstone appeso nel vuoto anche lì anche nel inferno appeso nel vuoto con una chest con robe molto utili però cioè è mitico più da capi assurdi si a vestiti non c'è che dire mi scopisco queste robe madonna crescono come non so cosa proprio madonna una velocità assurda poi quella laggiù ma dove ci mette a venire su sto posto? c'è un po' di l'ultimo il testo non aspettare un po' dico solo ci sono solo 2 cubetti alberi ne abbiamo i 5 qua poi ce ne sarà sicuramente dentro la cessa un bel po' non lo guardare più vuole perchè se lo guardi non brucia mi ha fatto un po' di più oh my god di giorno andiamo di là meno per far passare il tempo e direi perché proprio però vuole bruciare sta cosa ma potevi metterle in un armato buccia la prima no bisogna prenderle con la lavora ah scusa no per sé come io almeno questo è differente però non sai quanto meno no scher qualcosa di più ma no un giorno e l'altro poi c'è ce ne mette veramente tanta poi c'è avevi ragione e venti minuti no scher ventino non 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 ma non 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 però facciamo di notte non vuole il nero il dubb la pasta del tempo magari qualcosa di decidere la nera con la palestra racconto non troppo lento il proprio tipo di pezzo per il mondo l'ultimo poter si sa tutta questa roba forci le quali del corpo non si tratta di due st la nota la pala quanto palline capriamo e così non si rompere questo lo prendiamo con teatro 3 si allora possiamo prendere intanto mi calcio ancora per terra lo penso anch'io perchè si cosa saranno i cactus sia proprio l'ultima cosa che mi interessa però qualche modo è utile a farlo oh ma so cosa non si è degna di accendersi che uso aperto e non è l'unico modo per farlo bruciare vabbè lo so che mi ha fumato per i giorni facciamo un gol e sperando che non finisca giù facciamo un gol vabbè allora devo prendere perchè può seriamente cadere penso non so se sono così evidenti da essere no proprio della serie informelli intelligent mitico e poi ci fanno anche sotto dove camminano fa neve no non si muove non si muove però mi sa che lo abbia fatto cretino non si muove però mi sa che lo abbia fatto cretino credevo ciao bello ma ti chiami io non si muove 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 perchè se qualcosa che lo fa bruciare in qualche modo però con sicuro che è così con sicuro 100% non è che magari devi mettere dentro 8 dice no ma deve formarsi o anche testato ah beh testato è funzionato e quando ci ho impiegato ah anche tanto ah allora c'è qualcuno che faccio adesso ti spiega tutto non ci vuole cominciare no oh già mi sto andando camminando mi sta facendo almeno così posso lui fa una altri suoi compagni perché vedi in pratica io rompendo questa roba ne faccio altri ah cioè sono un capo e di lui non ho niente a tutta di la tua intelligenza e è superior accenditi portale di merda ora che devi fare la scuola ma è indifferente ma è indifferente vuoi trovare? di soliti si incendia subito cosa può dare? serve il piccolo se ne mette parecchio troppo 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 ho visto quanto è intelligente mica va a cadere è solo però ha tanto sesso di notte si spavano qualcosa lo vedi giù si spavano un bel scherzo che rilancia una freccia gli fa un bel lizzo e lo spara via e lo spara via e lo spara via veramente dai bruciati madonna ti stai impiegando tutto quello che è e tipo io ho visto un video di captain sparklets in cui ha fatto due episodi di più o meno 15 minuti per farlo accendere solo per si vabbè faceva altro però si vedeva che ogni tanto lo guardava spera non so se si accendesse ma non si accendesse ah bene poi dopo un po' dopo due dopo un po' dopo due dopo un po' dopo due dopo due terminando l'episodio si accende infatti noi veramente non abbiamo cacchio dopo no prendiamo cobre eh no non possiamo perchè non c'è non c'è la la bene eh così vai potevamo ancora un po' se non si vuole accendere questa volta non si vuole accendere e non si vuole accendere e non si vuole accendere e non si vuole accendere veramente ma è valordo ok accenditi perché non so come potremmo fare magari mettiamo due cubetti qua di legna questo si impuoco poi impuoco anche quella ma no troppo roba prova la media furba no perchè secondo me c'è stile invece l'epoca si può fare questa roba un petto un petto un petto un petto un petto sotto almeno è completamente ignota no non farlo non so proviamo a togliere questo non vedo cosa possa cambiare potrebbe funzionare mettendo un cubetto qua dentro un petto un petto un petto un petto un petto di questo un petto il petto un petto un petto ma oh una un pochettino dico che funziona credo però ci credo però per forza forse un in mezzo proviamo a togliere questi due non posso non c'è non c'è neanche uno lì vorrei dimmi che ci può prima a fare i bottoncini presenti la storia di mezzo si potevano quelli perfetto abbiamo fatto un bel portale pacco il pacco portale pacco portale pacco portale abbiamo un po' di un po' di coppia vi secondo me niente da fare intanto adesso fra poco vi lasciamo però vi secondo me niente da fare voglio fare una cavolata allargarlo non è allargare l'altro dove di là non serve un culo non serve un interito di niente boh boh ora direi di lasciarvi e nel prossimo video spero che quel portale si accenda se no lo spero anch'io ciao iscrivetevi commentate e mettete un bel mi piace ciao